Abbiamo accolto la richiesta degli ambulanti, il primo maggio si svolgerà il mercato cittadino, così l'assessore alle attività produttive del comune di Fano, Etel Lucarelli, che va incontro alle esigenze di tanti operatori già fortemente penalizzati a causa delle chiusure e delle restrizioni legate alla pandemia. Infatti la permanenza prolungata in zona rossa non ha avuto ricadute soltanto sui baristi, negozianti e ristoratori, ma anche sugli ambulanti del centro storico. Un'opportunità di lavoro, ma nel pieno rispetto delle regole, non mancheranno le garanzie sanitarie affinché i cittadini possano acquistare nella massima sicurezza. Come sempre, ha spiegato Lucarelli, verranno mantenute le vie di ingresso e di uscita del mercato. Prendo la giornata del primo maggio, una giornata comunque particolare, ma abbiamo deciso che il mercato cittadino rimarrà, un confronto aperto con l'associazione di categorie, con gli operatori del settore che hanno espresso la volontà giustamente di lavorare in questo difficile momento. Abbiamo aperto un sondaggio anche tra gli operatori, quindi ovviamente la volontà di lavorare è ampia e sarà anche un modo, in un qualche modo, per avere un qualcosa in più da vivere anche nella giornata del primo maggio. Quindi sabato mattina il mercato cittadino si terrà come tutti i sabati normali. I benefici di questa decisione, ha proseguito l'assessore, si rifletteranno anche sulle altre attività del centro storico che potranno beneficiare così di un maggior flusso di utenti tra le vie principali del perimetro urbano. Ora però è importante impegnarsi per sostenere chi invece non può lavorare all'aperto per mancanza di spazi e coloro che ancora non possono aprire per decreto. Innanzitutto devo dire che ci siamo attivati per far sì che quelli che hanno possibilità hanno fatto richiesta di spazi all'aperto. Già dal 26 hanno potuto aprire, noi abbiamo realizzato una commissione preposta che ha sburocratizzato molto le pratiche, ha dato la possibilità a tutti di lavorare. Rimane il problema di coloro che non hanno verande, che non hanno spazi all'aperto, che si trovano in luoghi dove spazi all'aperto non possono essere utilizzati. Ecco qui ci stiamo facendo carico anche di sentire la regione e sentire l'istituzione a più ampi livelli perché credo che queste attività debbano avere dei supporti o comunque bisogna trovare il sistema di ristori perché in questo momento obiettivamente sono attività che non riescono a riprendere la loro normale attività.